Chiedendoti che effetto ti fa ascoltare queste intercettazioni ambientali, leggere queste parole? Era già tutto saputo o c'è qualcosa che conosciamo di nuovo secondo te? Sono sincero, era già tutto saputo, è orrendo vederlo dichiarato direttamente dai protagonisti, però mi ha fatto specie trovare sui giornali di oggi giudizi vehementi e così ricostruzioni storiche che si sarebbero potute fare uguali, identiche due anni fa, se non ci fosse stato così un eccesso generalizzato di cautela in nome del garantismo nei confronti della famiglia Benettoni. Io non so in base a quale principio garantista la politica non avrebbe potuto agire prima del giudizio definitivo della magistratura, che del resto ancora non abbiamo perché qui siamo semplicemente con indagini in corso e non ancora quella principale. Che cosa ci ha impedito di riconoscere che quella concessione era abnorme? Ecco, c'è una cifra che tra le intercettazioni che citavi mi ha stupito, perché invece non è un'intercettazione, è un'intervista dell'attuale amministratore delegato di Autostrade. Tomasi. Roberto Tomasi, il quale prendendo le distanze, dicendo io sono venuto dopo, ho cambiato tutti i manager, ci ha dato due cifre, ci ha detto, abbiamo calcolato che fino al 2019 Autostrade per l'Italia spendeva in manutenzione 270 milioni all'anno, da quest'anno sono 650 milioni all'anno. Tre volte di più, quindi spendeva... Più che raddoppiati. Allora, basta questo, no? Che cosa si aspetta a fare in modo che questa famiglia, come dire, che ha avuto 9 miliardi e 200 milioni di utili, si ritiri senza pretesa. Nulla a chiedere. Che cosa si aspetta, Antonio?